Sono 5 comuni che da mercoledì saranno in zona rossa a Qualagna, Monte Labbate, Tavuglia, Valle Foglia, in provincia di Pesorvino e Cerreto Desi, in quella di Ancona. Per uscire di casa servirà l'autocertificazione. Contagiato dal virus a fine agosto e poi guarito, Francesco Merloni, uno dei decani dell'industria italiana, dona un milione di euro per la ricerca scientifica. A Pesaro i ristoratori si stanno organizzando per le riaperture serali all'aperto e sperano nel posticipo del coprifuoco. Duro il vicepresidente della regione Carloni, non è possibile che un paese intero debba sottostare all'opinione di quattro scienziati. Non è la scena di un crimine, ma la ciclovia adriatica ancora da ultimare, imbrattata con la vernice spray. L'ira del sindaco di Fano che chiede di visionare tutte le telecamere della zona. Troveremo il responsabile. Tamponamento sulla superstrada tra Tavernelle e Calcinelli a causare l'incidente. Un bancale in legno caduto da un camion finito in mezzo alla strada. Tra poco in diretta su Fano TV, primo cittadino con il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Occhio alla notizia. In studio, Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione della telegiornale. Come avete sentito, sono cinque i comuni marchigiani che dalla mezzanotte di mercoledì a quella del 25 aprile entreranno in zona rossa. Lo stabilisce un'ordinanza regionale firmata poco fa dal presidente Acquaroli. Simona Zonghetti. Tavuglia, Montelabate, Acqualagna, Vallefoglia e Cerretodesi. Sono questi i cinque comuni marchigiani che finiranno in zona rossa da mercoledì 21 aprile fino a domenica 25 compresa. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli. Si tratta di misure restrittive che non colpiscono le attività economiche, ha dichiarato il presidente, ma di provvedimenti che limitano assembramenti e spostamenti. Oggi, infatti, l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ha riunito i sindaci delle aree vaste. L'obiettivo è stato quello di valutare la situazione epidemiologica e decidere, di conseguenza, le ulteriori restrizioni in quei comuni che superano la soglia limite, indicata dal governo, di 250 positivi ogni 100.000 abitanti. E dall'analisi effettuata sul territorio è emerso che, mentre il tasso regionale dei positivi su 100.000 abitanti è leggera riduzione, in alcune è necessario un intervento precoce, si legge in una nota, per tenere sotto controllo la situazione pandemica. Preferiamo agire in via preventiva, piuttosto che poi vedere chiusure più lunghe e su territori più ampi, anche perché la riapertura al 100% della didattica in presenza sulle scuole, il trasporto pubblico locale che è stato potenziato, ma non sappiamo se riuscirà ad essere in grado di mettere in sicurezza tutti gli alunni, questi aspetti possono essere molto influenti, vanno tenuti sotto stretta osservazione. Così anche le scuole, le scuole quando, qualora, dovessero avere una classe, un positivo, la classe va in quarantena, ma con più classi la scuola va in didattica a distanza. Non dobbiamo compromettere il livello di salvaguardia che abbiamo raggiunto, ha proseguito il governatore, che ha ricordato anche il calo dei pazienti nelle terapie intensive. Acquaroli, però, chiede a tutti i cittadini di stare attenti perché il virus è ancora in circolazione nei cinque comuni individuati dalla regione e varranno quindi le sole limitazioni agli spostamenti previste per la cosiddetta zona rossa. I cittadini potranno uscire di casa soltanto nei casi di comprovata necessità, salute, studio o lavoro, invece per quanto riguarda le attività economiche e le scuole, resta in vigore quanto già previsto dalla zona arancione. Bisogna essere cauti, bisogna essere vigili, dobbiamo continuare a monitorare, per far sì che i focolai che potrebbero riaccendersi vengano subito isolati e messi in sicurezza perché questa fase e anche la quotorazione conseguente dall'andamento della curva epidemiologica delle prossime settimane e dei prossimi mesi deriva molto dalla capacità anche di tenere sotto controllo il nostro territorio. Sono nove i decessi legati al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Tra le vittime ci sono anche quattro persone residenti nella provincia di Pesaro e Urbino, invece i positivi rilevati nell'ultima giornata sono 137 su circa mille tamponi nel percorso nuove diagnosi. La provincia di Ancona è quella che registra più casi con 55 contagi, solo quattro nella provincia pesarese. Infine c'è un leggero calo dei pazienti negli ospedali della regione. In terapia intensiva ci sono 88 persone, quindi 8 degenti in meno, mentre in quelli nel reparto semintensivo salgono a 175, 5 in più rispetto a ieri. Le Marche sono la prima regione a concludere la vaccinazione per gli over 80. Lo conferma il Presidente Francesco Acquaroli, che dice abbiamo finito con gli over 80, siamo abbastanza avanti con gli over 70, con i disabili e i vulnerabili. Ma le graduatorie e le classifiche ci interessano poco, ha aggiunto il Presidente. Vogliamo mettere in sicurezza il prima possibile la più ampia fascia di popolazione, sperando di arrivare gradualmente, ha concluso Acquaroli, a delle aperture stabili che consentano alle categorie e al nostro territorio di prendere una boccata d'ossigeno. E a proposito di boccata d'ossigeno, ci spostiamo a Pesaro per vedere come si stanno organizzando i ristoratori in vista delle prossime riaperture. Ma c'è chi spera in un ripensamento del Governo per spostare il coprifuoco e poter riaprire, servire clienti anche all'interno dei locali. Angelica Panzieri. Il Governo ha già annunciato il piano delle riaperture. Il 26 aprile i ristoranti potranno riaprire in zona gialla, ma soltanto con i tavoli all'aperto. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano a proposito di questa decisione presa dal Governo Draghi. Alcuni questa mattina lavavano già sedie e tavoli. Le pulizie della cucina le hanno già iniziate quasi tutti. Si intravede uno spiraglio di luce per i ristoratori che dal 26 aprile, secondo quanto annunciato dal Governo, potranno riaprire in zona gialla, sia a pranzo che a cena, ma solo con i tavoli all'aperto e sempre rispettando il coprifuoco delle 22. Una decisione comunque difficile da digerire per i ristoratori, che dovranno affidarsi quotidianamente all'incognita del meteo. Ogni giornata di pioggia si trasformerà, di conseguenza, in un giorno di lavoro perso. Quello che noi avevamo richiesto era una cosa diversa, era quello di aprire, anche perché nelle zone gialle fino adesso si era aperti solo a pranzo, ma si poteva fare sia all'esterno che all'interno. Le temperature in questo periodo non è che sono delle migliori, quindi diventa difficile pensare di riaprire a pranzo o a cena, soprattutto con queste temperature e con queste condizioni meteo. Quindi quello che si auspica, che ci sia un ripensamento, è consentire soprattutto a tutti quei locali che non hanno spazi esterni di poter fare un minimo di economia per poter sopravvivere almeno fino a quando non arriva la stagione bella. Naturalmente se ci facevano anche tenere qualche tavolo dentro, magari con le finestre aperte così eravamo più contenti. Intanto se devono mangiare fuori, gli daremo in dotazione una giacca a vento e un paio di pantaloni da sci e l'ombrellino se piova, se magari allungavano almeno fino alle 11 e eravamo più contenti. Il resto non so come, siamo già di ripartire comunque favorevoli. Dopo poi vediamo, speriamo che poi si accorgono che anche facendo mangiare in una sala da 40 persone, 15 persone dentro, 15 in una sala, 15 in un'altra, eravamo ancora un po' più contenti. Sembra un po' una pesa in giro però sono contento io, io sono contento e voglio vedere un lato che sembra un po' positivo. Ci saranno tanti miei colleghi, io adesso in questo caso sono un po' fortunato, ho l'esterno ma tanti miei colleghi che mi dispiace, chi veramente non può chiedere anche il posto fuori, ebbene rimane chiuso, penalizzato e quindi mi dispiace perché io penso che non sia giusto. Vuoi far stare la gente solo fuori, ok? E quindi dalle 10 a mezzanotte cosa cambia? Anzi per me è anche meglio perché alle 10 abbiamo tutto un grande afflusso, tanto la gente vuole uscire, che tutti si lamentano perché esce la gente, ma la gente non ce la fa più, qui la gente sta impazzendo. Quindi naturalmente mettendo un coprifuoco alle 10 vuol dire che è tutto concentrato in due ore maledette e la gente giustamente vuole uscire, invece così fino a mezzanotte potevi fare all'inizio le famiglie, dopo verso le 9, mezza 10 le compagnie, i ragazzi giovani e quindi riuscivi a contentare un po' tutto e non c'era questo afflusso. Come specificato dalle linee guida, i tavolini dovranno comunque essere collocati ad un metro di distanza l'uno dall'altro, anche all'aperto. I clienti dovranno sempre indossare la mascherina in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo. Ed è critico sulle decisioni del governo anche il vicepresidente delle Marche, Mirko Carloni, che ha detto che non è possibile che un paese intero debba sottostare all'opinione di quattro scienziati. Va ascoltato chi opera sul territorio. Troppa incertezza che ha provocato danni ingenti all'economia. Il vicepresidente della regione e assessore al commercio, Mirko Carloni, oggi è tornato a parlare delle riaperture. Se da una parte si attendono i dettagli sul nuovo decreto del governo Draghi, dall'altra continuano le lamentele e la preoccupazione di chi potrà aprire soltanto all'aperto le attività o di chi addirittura sarà costretto a rimanere chiuso per mancanza di spazi. Intanto abbiamo dato noi al governo con l'ampio anticipo una disposizione di linee guida per riaprire e lì non c'è scritto che si deve stare all'aperto. Abbiamo dato invece piuttosto la possibilità di riaprire tutte le attività anche in una zona di fascia rischio, rispettando i protocolli come è auspicabile in una crisi che ormai non è più temporanea ma è stabile. Mercoledì ci sarà il confronto, credo che domani ci sarà il Comitato Tecnico Scientifico che valuterà le nostre proposte, intendo di tutte le regioni. E contemporaneamente poi mercoledì invece c'è il confronto Stato-Regioni sulle modalità per la riapertura. Quindi sarà un confronto anche duro ma noi terremo la posizione. Infatti, prosegue Carloni, non possiamo scaricare in questo modo con ulteriori aggravi burocratici le scelte sulle riaperture. Non è possibile che un paese intero debba sottostare all'opinione di quattro scienziati che stanno dentro il Comitato Tecnico Scientifico ma vadano tenuti in ascolto soprattutto coloro che hanno una rappresentanza democratica e una competenza del territorio e soprattutto delle materie di competenza che è come il commercio, la polizia amministrativa e tutto quello che in questo momento è fermo. Per esempio le palestre, che sono uno dei settori che più di tutti ha sofferto questa chiusura, i teatri, i cinema, dobbiamo ridare regole certe. Il clima di incertezza con cui si è avvolta tutta la gestione del Covid ha fatto dei danni molto forti all'economia. Adesso, sulla ripartenza, bisogna dare regole certe. Contagiato dal virus a fine agosto e poi guarito, Francesco Merloni, uno dei decani dell'industria italiana, ha deciso di donare un milione di euro per la ricerca scientifica, nello specifico ad un progetto dell'Associazione Veriditas mirato a promuovere l'eccellenza della prestazione sanitaria nell'azienda ospedale Riuniti di Ancona. Il progetto dell'associazione è interamente sostenuto da un fondo istituito dalla famiglia Merloni. 200 mila euro serviranno per l'acquisto di apparecchiature e 800 mila euro da utilizzare nell'arco di almeno quattro anni per premiare ricercatori e giovani medici, autori di protocolli di studio e di ricerca coerenti con gli obiettivi dell'iniziativa. E adesso torniamo a parlare di tamponi nelle scuole, perché oggi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha commentato la notizia dell'arrivo dei tamponi salivari nelle classi annunciato dal membro del Comitato Tecnico Scientifico Sergio Abrignani. Anche il CTS ha capito che questa è l'unica strada giusta per finire l'anno in presenza, ha detto Ricci. Si tratta di test rapidi in grado di dare il risultato in soli cinque minuti. Ieri, dopo aver visionato il protocollo scuole sicure, il ministro Bianchi ha voluto ulteriori informazioni sul modello Pesaro. Il monitoraggio si può fare, le risorse ci sono nel DL sostegno. Ha concluso il sindaco, sono stati stanziati 150 milioni per gli screening. Ora il governo decida il metodo. Intanto domani a Pesaro ripartono i tamponi nelle scuole superiori. Atti vandalici durante la notte scorsa, essere presa di mira questa volta, è la ciclovia adriatica a Ponte Sasso di Fano. Tra l'altro una ciclovia che è ancora in fase di ultimazione. Toleranza zero da parte del sindaco di Fano Massimo Seri. Filippo Pucci Sembrano non placarsi gli atti vandalici compiuti a discapito del bene pubblico. Dopo quelli registrati lo scorso weekend a Colli al Metauro, nella notte tra sabato e domenica questa volta è toccato a Fano lungo un'importante opera in fase di ultimazione. Un altro fatto analogo si è registrato qui lungo la ciclabile di Ponte Sasso. Si tratta di una sagoma di un uomo, stile scena del crimine, di grandi dimensioni, realizzata lungo la nuova pavimentazione con delle bombolette spray di colore rosso. Non ci siamo, scrive il primo cittadino Massimo Seri sulla sua pagina Facebook. L'atto compiuto nella notte va condannato e mi farò consegnare le registrazioni di tutte le telecamere presenti in zona. Toleranza zero, tuona il sindaco, contro gli autori responsabili di questo insignificante gesto. Mi rendo conto, non è che parliamo di teppisti, parliamo di ragazzate per divertirsi fanno queste cose. Ma quello che emerge è la mancanza di rispetto per la cosa pubblica. La cosa pubblica è di ognuno di noi. Io penso che questi ragazzi non è che a casa propria vanno a fare questi disegni sui gradini di ingresso della propria casa. Lì stiamo facendo un investimento importante per riqualificare quell'area. Sono risorse pubbliche importanti. Dobbiamo ancora inaugurarlo e vedere queste scemenze perché qui parliamo di cretini e non c'è altro termine più appropriato. Per cui mi sono arrabbiato, vuole essere anche un monito per tutti. Cerchiamo di capire chi sono i responsabili per poi intervenire. Però ecco, è questo. Ragazzi, io vi voglio bene perché so che siete responsabili. Quando facciamo queste cose, facciamole anche con intelligenza. Nessuno vuole legarvi le mani. Però su questo, specialmente quando ci sono cose importanti che riguardano tutti, immagino che siano anche della zona. Quindi queste cose vanno decisamente condannate. Immagino che poi nell'arco del circuito ristretto si sappia anche chi sia stato. Allora, evitiamole queste cose. Per quello che mi riguarda sarò determinato e deciso. La cronaca. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto alle 15.30 lungo la superstrada Fano Grosseto, tra Tavernelle e Calcinelli in direzione mare. A causa di un bancale in legno finito lungo la carreggiata, i conducenti hanno iniziato a frenare formando una lunga coda. Gli ultimi veicoli però non sono riusciti a fermarsi in tempo e hanno provocato un tamponamento. Per fortuna non si registrano feriti ma soltanto danni ingenti ai mezzi coinvolti. Sul posto due pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi di legge e mezzi dell'ACI per sgomberare la strada. Invece intorno alle 17 i vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi in zona Chiaruccia a Fano per un incendio divampato in un'azienda che si occupa della demolizione di auto. L'origine del rogo è riconducibile ad una scintilla provocata da un attrezzo finita nel serbatoio di una vettura che è andata in fiamme. Il veicolo comunque sarebbe stato demolito. Continua la polemica sulla fusione tra Aset e Marche Multiservizi. Oggi la Lega Fano torna all'attacco per chiedere chiarezza. Il sindaco Seri replica. Sono chiacchiere strumentali. Chi fa battaglie dialogiche non fa gli interessi della propria città. Promesse elettorali non mantenute dal sindaco e poca trasparenza. Sono le accuse mosse dalla Lega Fano che oggi torna a ribadire la posizione del partito sulla fusione tra Aset e Marche Multiservizi. Le acque infatti rimangono agitate in consiglio comunale, soprattutto dopo l'approvazione della mozione su Aset pubblica e autonoma presentata dalla Lega insieme al Movimento 5 Stelle e Fano Città Ideale. A votare a favore anche quattro consiglieri di maggioranza. Carla Luzzi di Incomune, Agnese Giacomoni, Giovanni Clini e Stefano Luccioli del Partito Democratico. Per questo Massimo Seri ha ritenuto fondamentale provvedere a una verifica di maggioranza e ha convocato per domani alle 18.30 nella Sala della Concordia gli assessori, i segretari di partito e i capi gruppo. Quello che chiediamo al sindaco Seri con fermezza come Lega è trasparenza su tutta la vicenda Aset, Marche Multiservizi e il biodigestore. Con una mozione votata dalla maggioranza in consiglio comunale abbiamo chiesto ad Aset di guardarsi intorno non solo a Marche Multiservizi, anzi escludendo Marche Multiservizi perché ci ha preso in giro fino ad oggi sulla realizzazione del biodigestore. Però noi vogliamo chiarezza anche sulla fusione Aset e Marche Multiservizi perché era stato detto in campagna elettorale e anche dal Consiglio Comunale che non si sarebbe mai fatta la fusione tra Aset e Marche Multiservizi. Oggi dalle dichiarazioni del sindaco Seri, dalle pressioni del presidente della provincia Peppino Paolini e dalle pressioni del PD provinciale e regionale invece vediamo questa tendenza di ritornare verso la fusione. Quindi noi vogliamo chiarezza una volta per tutte da parte del sindaco Seri, fuori dalla politica dalle aziende municipalizzate. Aset deve rimanere pubblica e del Comune di Fano. E la risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. Non ho voglia di fare polemiche, ha repeccato Massimo Seri. Capisco che quando si vuole fare opposizione si deve strumentalizzare tutto. Io tengo sia ad Aset, che è un'azienda ben gestita, ha detto il sindaco, sia alla città. In un territorio come questo provinciale, due società che gestiscono i servizi devono dialogare tra loro e devono condividere delle strategie, a cominciare dall'impiantistica come fanno le altre province. E alcune volte quando vedo anche documenti che in realtà sul falso obiettivo di tutelare un'azienda si rischia di fare dei danni per il futuro, non nell'immediato. Poi passano gli anni, ne vediamo le conseguenze e poi si torna indietro a pensare a chi aveva fatto certi atti. Allora io voglio essere ricordato per un sindaco che ha dato anima e corpo per la propria città, ma soprattutto che ha dato impulso allo sviluppo e l'ha tutelato. Ed è l'obiettivo che ho. Quindi per quello che mi riguarda sto lavorando perché ci sia un'impiantistica condivisa dove ASES svolga il suo ruolo. Poi per il resto molte sono chiacchiere strumentali. Poi è anche vero che ho già detto che appartengo a quella categoria di amministratori che le cose le vogliono conoscere, vogliono approfondire per poter prendere le decisioni più sagge e più giuste nell'interesse dei cittadini. Quando si fanno battaglie ideologiche senza guardare, approfondire, non si fa l'interesse della propria città. Questa è la mia risposta. Con coerenza e con serietà. Il Comune di Cartoceto ha potenziato la videosorveglianza per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Infatti, dopo alcuni episodi di errato smaltimento, l'amministrazione ha dotato la Polizia Locale di telecamere mobili da installare nelle isole ecologiche. Ad oggi sono state elevate oltre 20 sanzioni a carico dei trasgressori. Si sta anche valutando, ha detto l'assessore all'ambiente Deborah Conti, la possibilità di riqualificare alcune isole ecologiche nelle vicinanze del centro abitato di Cartoceto per renderle più in armonia con il decoro urbano. Chiaramente quando parliamo di Cartoceto parliamo anche di Lucrezia. E adesso apriamo l'album di Fano TV perché abbiamo parecchi auguri da fare questa sera. Allora, andiamo subito a fare gli auguri a Franco San Paolo e Anna Scarpellini di Lucrezia di Cartoceto che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Nozze d'oro anche per Fulvio Vagnini e Fiorella Antonioni, residenti a Fano, che sempre ieri hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio. 50 anni di matrimonio anche per Evandro Gambini e Gabriella Droghini di Tavernelle di Colli al Metauro. E naturalmente a tutte queste coppie i nostri più fervidi auguri. E adesso ci fermiamo perché abbiamo un attimo la pubblicità, le previsioni del tempo e tra poco le luci, lo studio, le telecamere saranno di nuovo accese per Primo Cittadino con Nicola Barbieri, sindaco di Mondolfo. Grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.